Ok ragazzi, questa è tipo la versione editata del video PUCCHI SCHERI SCHELETONS Non è Halloween Halloween era ieri Ops Intro brutta fatta Siamo tornati su La corsa geometrica Leggera Normale Farò il video così Dov'è? Ok, sarebbe una bella Ma mi romperei Le braccia E il family friend Le romperei Se vi ricordate la prima volta ero tipo La persona più nabba a sto gioco E lo sono ancora Scusate c'è un Un quadro in mezzo alle scatole Scusate Ecco fatto Vi faccio vedere come sono diventato pro su stereo madness E ha sbloccato la skin di stereo madness Per questo tipo Teschietto bello Non voglio fare come il video di sub-zero Che faccio tipo Eh ma guarda Quanto sono diventato pro su stress start E morivo all'infinito Parte very hard Very hard Parte che c'è Sono diventato più bravo su sto livello Affidatevi Spero che lo editerò sto video Non lo farò perché Non riesco a capire come si utilizza Filmo Ora porco schifo Che ha un sistema di taglio tipo strano Tipo Cioè non puoi fare più piccole parti No Cioè nel senso Puoi ovvio Però Cioè ti fa tipo Un video solo Che poi vabbè Ti mette tutto assieme E ti fa Un video ovviamente Ma era tipo scomodissimo Devo abituarmi a usarlo Cioè devo imparare a usarlo Oh Madonna Avevo un pezzo di cibo Tra l'accarecchio E l'accidente Censivale Va bene Ragazzi Volete vedere la merce sul mio canale La merce Le magliette Facciamo le magliette Di cappellino No scherzavo Vorrei farlo Ma Sono troppo Stupido Per Saper come fare le cose Cazzo di cibo Nella mia bocca Ho mangiato le patatine Fritte Perché sono buone Fritte nel microonde Basta esplodere Ma porco schifo Sediterò questo video Recia Possiamo andare La parte in cui riesco A completare Il livello Dopo 3.000 Ho solo 3 Avventure Straziane 2 Dovete sapere Che un mio amico Marvex player Adora i miei video Di geometri dash Oh Prima la moneta Senza neanche farci caso Adora i miei video Di geometri dash Ma E guardate Perché guarda Tipo solo questi E ragazzi Se vi chiedete Perché non sto facendo Tanto battle catch In questo periodo Perché Non ci sto giocando molto E con Non ci sto giocando molto Intendo non ci sto proprio giocando A parte raccogliere Le ricompense Giornaliere Siamo arrivati alla fine Della pazzia Dello stereo No 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 Ho preso una monetina Ok Dopo aver visto questo Andiamo Il back on track Dobbiamo Questo significa Ritornati in pista Siamo ritornati In pista Su geometri dash Normali Siamo ritornati Devo mettere Che alcune Devo ammettere che alcune delle canzoni Di la corsa geometrica Sono proprio fantastiche No madonna Mi stava tirando delle laggate A proposito ragazzi Siamo a Nove Siamo a novembre Quindi la scuola ci ha iniziato da un pochino Come sta andando la scuola? Volevo chiedervi Se sei Marvex Player Non rispondere perché Ti conosco, sei nella mia stessa classe Quindi Marvex Player Non mi rispondere a questa domanda Sarebbe una cosa veramente awkward Che cazzo significa awkward? E io che ne so Scusate Non ho il sponsor della Coca-Cola Ma È dal Va lavato È sporco È sozzo La bottiglia della Coca-Cola Non ne manca una bottiglia La borraccia della Coca-Cola È scusa Ragazzi Ricordatevi di scaricarvi Rainy Shadow Legends No Un RPC mobile brutto quello Non l'ho scaricato Ma cosa Ma cosa Vabbè Vabbè Vi ho spaccato i timp Vi ho spaccato i timpani Mi odierete Mi odierete un sacco dopo questo video Solo perché vi ho spaccato i timpani Se avete le cuffie a volume massimo È proprio un irrape Posso dire irrape su YouTube? Perché irrape tradotto in italiano significa Orecchio Cosa brutta che non posso dire Ah ragazzi Volete sapere una cosa divertente? Praticamente Praticamente Occi ho registrato un video corto Dove dicevo tipo Scrivete le vostre domande qui sotto nei commenti Perché volevo fare un Q&A per i 30 iscritti Solo che YouTube Indovina cosa fa Si dice Scrivete nomi le cose nei commenti Ovviamente Ti blocca i commenti Quindi scusate Non potrete scrivere nulla nei commenti qui sotto Maledetto YouTube Maledetto Kagarot Citazione Dragon Ball Tra l'altro ragazzi Ho bisogno di sapere una cosa seria Ma io sono l'unico essere umano A cui piacciono Sette peccati Attendo l'anime Quello che è su Netflix Tipo E che è su altri siti Adesso sta tipo Scendo la porta Stagione Sono l'unico a cui piace Eh cacchio Sono l'unico a cui piace Ditemelo perché È bellissimo quell'anime Vi perdete Vi perdete la vita Se non lo guardate Ultimo tentativo Bene In questo video abbiamo fatto un bel po' di discorsi Comunque ragazzi I miei video di Geometry Dash Credo che siano tra i video che fanno più successo che io abbia mai fatto E' strano perché Non ho mai avuto più di 10 visualizzazioni a video Manco con Tap Tap Breaking Mi Tap Tap Breaking Ve lo ricordate ragazzi? Molto probabilmente no perché la macchina Mi discorre Delle superiori che sono gente nuova per il canale Ditemi se vi piace questa skin Mi piace Posso raccontarvi un piccolo Da dire una piccola sneak peek Di una cosa che voglio fare Che molto probabilmente non farò mai Perché come ripeto serve molto editing per farlo E non so utilizzare bene quel programma ancora Eh volevo fare un video di Geometry Dash Che era tipo i 5 tipi di giocatori di Geometry Dash Però 1 bisogna registrare il footage 2 bisogna pensare ai tipi di giocatori E 3 bisogna sapere evitare Se no c'è un video brutto Comunque ragazzi Voi che avete visto il video di Team Tris Vabbò Avete visto il video di Team Tris Vabbè donate sul Team Tris Che c'è per altri 2 mesi E sono stati donati 2 milioni di soldi Vabbò Ciao ragazzi Sto sclerando Quindi Addio Wow